Ciao e benvenuto sul canale di In Cucina con Mago d'Otonno Allora ragazzi visto che me l'avete chiesto in tanti e il periodo di Pasqua è alle porte Bene come promesso vi voglio presentare una pietanza tipica calabrese ovvero sto parlando del Cuduro salato Ebbene amici se gli aziani vi ho presentato il Cuduro quello semi dolce salato il Cuduro dolce quest'anno è la volta del Cuduro salato Quindi preparatevi a prendere carta e penna perché sto per dirvi gli ingredienti Ma prima di continuare se ti piacciono le ricette tipiche calabresi e non solo Beh ti invito proprio ora a iscriverti al mio canale qui sotto azionare anche la campanellina e lasciare già un bel pollicione in su Detto ciò gli ingredienti per fare il Cuduro salato calabrese proprio casaluro sono 500 grammi di farina 20 grammi di lievito di birra 150 grammi di acqua 2 uova Un pizzico di zucchero 10 grammi di sale 90 grammi di olio extravergine d'oliva 20 grammi di strutto che se non lo avete potete sostituirlo con 20 grammi in più di olio extravergine d'oliva E per aromatizzare il nostro Cuduro io andrò ad usare 10 grammi di semi di finocchio selvatico Oppure voi potete fare un misto tra semi di finocchio e semi di anice Comunque quello che più preferite potete usare E inoltre come ultimi ingredienti serviranno 4 uova bollite Logicamente io ne andrò ad usare 4 perché andrò a fare 2 forme Ma se voi ne fate solo una ricordatevi che dovete mettere sempre le uova dispari se no porta sfortuna Quindi o 1 o 3 o 5 o 7 comunque Ricordatevi per ogni forma vanno messe le uova dispari perché se no porterà male Detto ciò spero che questa video ricetta carissimi amici vi piacerà se no come sempre Pacenzo Unci pozz farinetti e adesso andiamo alla preparazione Iniziamo mettendo in una bacinella la farina Un pizzico di zucchero Il sale I semi di anice o di finocchio Andiamo a mescolare il tutto e formiamo una fontanella Dopodiché ci andiamo a mettere nel centro il lievito di birra sbriciolato Lo strutto L'olio extravergine d'oliva L'acqua Le uova E poi andiamo a impastare il tutto Iniziamo a impastare soltanto nel centro fino ad avere un composto abbastanza liquido E vediamo che il lievito di birra si è ben sciolto E dopodiché andiamo a incorporare l'altra farina in questo modo Una volta ottenuta questa consistenza passiamo a lavorare l'impasto sul nostro piano da lavoro Impastiamo fin quando non otteniamo un panetto bello liscio ed omogeneo Fatto ciò adesso lo mettiamo di nuovo nella bacinella che prima abbiamo usato per impastare Lo andiamo a coprire e lo facciamo lievitare per circa 2 o 3 ore Deve raddoppiare di volume Ecco qua il risultato Quindi adesso prendiamo l'impasto Lo mettiamo sul tavolo da lavoro E lo andiamo ad impastare leggermente Dopodiché lo andiamo a stendere Formiamo un bel salsicciotto E lo andiamo a dividere in 4 parti Dopodiché andiamo a stendere ogni pezzetto E ne ricaviamo dei cilindri in questo modo Ora prendiamo i 3 salsicciotti E li andiamo a sovrapporre uno sotto l'altro In questo modo e andiamo a fare la treccia Una volta formata la treccia La andiamo a stendere per bene La lasciamo così sul bancone per un poco così si rilassa la pasta Una volta rilassata dopo un minuto Ecco qua che andiamo a formare La nostra ciambellone La nostra bella treccia E ci andiamo a posizionare Le 3 uova sode Posizionate poi dopo le uova Con un altro poco di impasto Andiamo a formare un cordoncino E andiamo a fare delle croci sopra le uova Ora con l'impasto che è rimasto Io lo vado a intrecciare in questo modo a 2 E poi dopo di che In una parte vado a mettere l'uovo E poi ci faccio sempre la croce di sopra Ora mettiamo su una teglia con gatto da forno Copriamo con la pellicola E lasciamo lievitare per circa un'ora Una volta poi ben lievitati Ecco qua il risultato dopo un'ora Andiamo a togliere la pellicola E andiamo a spennellare il tutto Con un uovo sbattuto insieme a del latte E poi andiamo a infornare a forno Preriscaldato a 200 gradi Per circa 25-30 minuti Ed ecco qua il risultato ragazzi Come potete vedere sono bellissimi Adesso vi faccio vedere anche all'interno com'è Bello soffice e profumato E noi ci vediamo nel prossimo Un'altra nuovissima videoricetta Vi lascio l'altra videoricetta Del duro salato e dolce proprio qua sotto in pensione E poi se ancora non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Adesso andate a Camberlin Condividete questo video con i vostri amici Sui vari gruppi Whatsapp e Facebook E noi ci vediamo alla prossima Ciao